ciao ragazze allora se vi dico che sto facendo questo video dalle 3 meno 20 non ci credete una volta si scarica la batteria un'altra volta la memoria è piena un'altra volta parlo da sola spacchetto tutti questo questo regalo stupefacente che mi è arrivato questa sorpresa speriamo che ora riesco a fare il video in più ci sono questi di fronte a me che stanno facendo i lavori ma se non allora 1 2 3 4 questa è la quinta volta che giro il video lo fa per dispetto lo faccio e anche perché ho aperto già tutti i pacchettini purtroppo comunque mi è arrivato pensiamo alle cose bellissime roberta roberta il canale il suo canale sto parlando di grafic crea creation sun shin mi ha detto anna ti voglio mandare una una letterina così mi conosci di più quindi mi aspettavo che da roberta mi arrivasse una letterina mentre monica dallo studio ha detto che è venuta a mangiare a casa mia ha detto anna guarda ti è arrivata questa busta questa bustona purtroppo non potete vedere ora i pacchettini aperti perché io parlavo da sola e non ha registrato niente il telefonino penso che è opportuno che mi vada a comprare la telecamera perché non è possibile un video anche piccolino ci sono da due ore e mezza infatti avrà detto chicca ma anna che fine ha fatto non la vedo più anna vi faccio dire tutte le cose bellissime a parte la sua lettera che mi ha fatto mi ha fatto piangere mi ha fatto piangere la lettera di chicca vi faccio dire tutte le altre cose belle che mi ha mandato allora mi ha mandato questa catena che va sul tipo seta tipo di stoffa sul marroncino poi mi ha mandato sempre una catena che va sul senape e poi questa qua fu che sia fu che sia lilla poi questo bracciale che chi non l'ha visto andasse a vedere ha fatto il tutorial e mi va perfettamente come se avessi proprio visto il polso poi ora cominci a far fatto quest'altro braccialetto mi spizio solo queste perline che ha inventato lei e poi cominciamo ora con tutta la roba famosa che mi ha mandato che io devo fare tutte le collane collane braccialetti non lo so quello che farò questo è una scarpetta tutta sbrillucigosa rossa poi questo è un lecca lecca poi questa è una conchiglia comunque se è troppo bello il film da vicino poi sono spettacolari non è come quando uno lo fa vedere nel video questo è un pezzettino di torta questa è una super torta gigante che devo fare subito una collana bella poi questa è super stupendissima che bello ma la mangio sembra sembra che si può sembra che si mangia no io non li so fare queste cose questo è un fiocchettino lilla che bello non vedo l'ora di fare le cose poi questi sono due orecchini a girandola poi questo che peccato nel pacchetto è quella la posta figurati se spezzata lo è un guarda come è bello questo lo devo fare attaccare da davide a in più mentre stavo registrando anche davide che se ne stava andando quindi figurati li mostro da sola poi questo qua due di questi che faccia non lo so un braccialetto o degli orecchini ma vediamo poi la stessa cosa qua mi deve aggiustare tutto davide questo fiocchettino qua e ma quelle chissà come sbattono le bambino le buste chissà che dove le buttano perciò si rompe poi il fimo comunque delicato ma le deve attaccare davide poi questo stupendissimo che bello devo fare le collane qua è una specie è un ventaglio sbrilluccicoso rosa che bello questo poi questo è un fiorellino ma quante cose ma sei pazza questo è uno chanella bello questo è un anello fatta torta che mi metto poi la tazzina la tazzina del tè poi quali ho i braccialetti un dolcino poi girasole e quest'altro girasole poi questi due qua le fettine di torta bello questo è uguale faccio il completo qua ecco che bello poi lo spilatino sembra vero la rosetta pure sembra vera questi due orecchini qua biscottino belli mi metto tutto questi sono stupendissimi i rossettini con chanelle sopra che bello a me piace un sacco il simbolo chanella queste margherite che belle queste pure questo anello comunque il film è bellissimo però io non ho pazienza di fare il film le margherite questo pure si è rotto mi deve aggiustare pure questo davide si è rotto il simbolo dello chanel bello era un ciondolino questo tanto mi ha aggiustato davide tutto questo è un orecchino col biscottino e quest'altro col cornettino bello questo da un lato si mette uno da un lato si mette un altro l'agrostatina questo cuore questi altri due cuori comunque un sacco di cose mi ha mandato è pazza sei una pazza e poi quest'altro cuore questo piccolino il cornettino poi un altro chanel e poi mi ha mandato di charmes troppo ah mi ha mandato è stata qua questa fettuccina grigia che a me il grigio mi piace un sacco soprattutto l'inverno lo uso moltissimo grigio e rosso uso molto mi piace il grigio e mi ha mandato questi charmes questa pandorina qua sbrillucci cosa nera questi due cuoricini infatti faccio subito il bracciale due cuoricini la chiave di violino che per esempio qua non le trovo queste cose qua e poi questi questi bambini questa bambina che troppo bella che bella che bella guardate e poi ah non finisce quest'altra cosa qua e poi questi qui fatti con il guai guardate quante cose mi ha mandato e ah secondo voi questa è la lettera che c'entra questa è la lettera guardate guarda roba fimosa questo è il cavalletto guardate quanta roba fimosa guardate quante cose mi ha mandato regalato una pazza e quella è la lettera comunque non me l'aspettavo questa mega sorpresa grazie chicca ti voglio un mondo di bene ragazzi poi vi voglio dire una cosa comunque youtube cioè è davvero cioè secondo me cioè non solo distrae ma da cioè dal modo di conoscere delle persone davvero meravigliose cioè perché vi giuro io ho conosciuto alcuni di voi che mi sono così affezionata ecco chicca chicca serena roberta amen nadia cioè veramente ci sono delle si possono conoscere persone stupende su youtube vi mando un bacio quindi grazie chicca mi aspettavo solo la lettera comunque sei bravissima con il fimo ti adoro e ti voglio un mondo di bene vi bacio tutte un bacio a tutte quante al prossimo video vi voglio bene tutte un bacio grazie a tutti